Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi risponderemo a una domanda perché sto in cat e il peso non sta scendendo. Sono arrivate tantissime di queste domande su Instagram e sono super ripetitivo quando dico queste cose. Sono arrivate tante domande su Instagram, le avete chiesto molti sul Q&A, però realmente è così. Quando faccio il Q&A nei miei giorni di riposo rispondo a alcune domande, ma non riesco logicamente a rispondere a tutte e vedo un po' quelle che sono le domande un po' più quotate, quelle che vengono fatte di più e logicamente vado a trattare quelle domande in video specifici qua su YouTube in cui possa essere un po' più logorroico. Tra parentesi, visto che parliamo di Instagram vi ricordo di seguirci su Instagram, troviate i profili qua sotto, ogni tanto il mio nome compare da qualche parte qua sotto e se vi interessano questi contenuti logicamente mettete like al video e seguite il canale, attivate le notifiche così vi arrivano appena posto qualcosa. Quindi detto questo, perché il peso non scende? Sto scendendo in cat e il peso non scende? Allora, prime due ipotesi che mettiamo sul tavolo da gioco e che vi devono far preoccupare poco, nel senso che sono prime due casi in cui non c'è assolutamente nulla da cui preoccuparci, è che innanzitutto il peso in cat non scende in maniera rettilinea in qualche modo. Immaginate, non è una discesa lenta in cui gradualmente il peso scende, ogni giorno scende un po' di più, o meglio, in alcuni casi ci sono queste cose, ma sono periodi brevi e ristretti. Nella maggior parte dei casi la discesa del peso va più a gradoni, vedetela così. Quindi c'è una fase di stallo di un pochetto e poi scende il peso, c'è una fase di stallo e scende il peso. Magari inizia a scendere due o tre giorni e poi di nuovo stallo e scende il peso. Ossia, non è una discesa costante e graduale. Quindi se vedete degli stalli per un periodo breve di tempo, quindi anche fosse una settimana, una settimana e mezzo, eccetera, soprattutto se siete donne, questa cosa è molto più vera nelle donne, le donne hanno la tendenza ad avere stalli molto più lunghi, non vi dovete assolutamente preoccupare. Va benissimo, è normale, finché sentite che avete fame, il metabolismo attivo, vi allenate bene, state facendo tutto quanto per bene, lasciate semplicemente tempo al tempo, quindi non vi dovete assolutamente preoccupare. In parallelo a questo vi do un altro indice da seguire, ossia la composizione corporea, come vedete allo specchio, perché molto spesso il peso rimane stabile, e questo succede nella gran parte dei casi, la maggior parte dei casi, il peso rimane stabile, però di contro vedete che allo specchio migliorate. Che cosa sta succedendo esattamente? Beh, il peso in realtà è soltanto un numero di quello che abbiamo, del nostro peso corporeo, di tantissima roba che abbiamo all'interno del nostro organismo. Prendete una scatola, la riempiete di frutta a caso, e l'andate a pesare e fate un peso generale. Perfetto, l'ho riempita a caso, io non so quante mele avrò, quanti kiwi avrò, eccetera, so soltanto un peso generale del tutto, quindi non so esattamente che cosa c'è nella scatola. Quindi immaginate questo, vi dico, c'è una persona che pesa 92 kg. Ok, perfetto, cosa vi immaginate? Anzi, vi dirò di più, è alto 1,73 m, è un maschio e pesa 92 kg. Che cosa vi immaginate voi nel vostro test? Allora, potete immaginarvi due cose. La prima cosa che potete immaginarvi è una persona che è leggermente in sovrappeso, anzi molto in sovrappeso, perché ha un BMI veramente, veramente alto, HP più 20 kg. Quindi è sostanzialmente una persona che ha una vita sedentaria, che mangia tanto, che è in sovrappeso, sgradevole all'aspetto. Oppure vi potete immaginare me in off-season, perché io in off-season vado dai 95 kg e quando inizio il cut, anzi in questo momento che sto in preparazione, sto sui 92 kg. Quindi sto con un peso molto molto elevato, però capite che il peso non può dire niente di per sé. Quello che succede normalmente nelle fasi di cut, che cos'è? Che nel momento in cui iniziamo a scendere, abbiamo anche un buon miglioramento della sensibilità insulinica. Quindi automaticamente il distretto muscolare inizia a captare più glicogeno, captare più acqua, ci vediamo un po' più pieni. Al tempo stesso perdiamo un po' acqua nel compartimento extracellulare, perché c'è un drop delle calorie. Molto spesso, soprattutto per i maschi in questo caso, scendendo un filo di peso magari, o comunque avendo una miglior compartimentalizzazione dell'acqua, ci sentiamo anche meglio, più in salute, e ci alleniamo meglio perché il nostro livello di fitness aumenta. E quindi automaticamente il peso può anche essere che è stabile, ma allo specchio siamo completamente diversi. Di nuovo vi faccio il mio esempio. Ho iniziato il cut da 4 settimane, il peso è passato da 93 kg a 92. Ho perso soltanto un chilo, ma la composizione corporea è veramente diametralmente differente. Cioè si vede veramente uno shape completamente differente allo specchio. Quindi capite bene che il peso non ci dice granché. Per cui, la prima cosa che vi dico è guardate innanzitutto come siete da un punto di vista composizione corporea. Se il peso è stabile, ma vi vedete che state migliorando, allora sapete che semplicemente l'acqua che si va ad allocare in punti diversi, il corpo che sta perdendo grasso, ma trattiene un po' di più all'interno della massa muscolare. Quindi va assolutamente bene, non vi preoccupate perché state comunque dimagrendo. Ora, ipotizziamo che queste due case non siano. Ossia siete in stallo per tanto tempo, cioè veramente da tanto tempo che sono in stallo, non so esattamente cosa fare, a livello di composizione corporea non mi vedo migliorato, migliorata, o addirittura sto peggiorando, che cosa posso fare? Allora, il primo caso in assoluto è che l'allenamento non sia impostato nel migliore dei modi. Io quello che vi esorto a fare è di cercare di aumentare l'intensità e volendo anche un filo il volume, se riuscite, in allenamento. Quindi inserite molti lavori anche un po' più metabolici che hanno un maggior dispendio calorico e questo è un discorso valido perché, di nuovo, in cut tendenzialmente il peso è più basso, il livello di fitness è più alto e quindi saremo molto più efficaci e avremo possibilità di progredire i lavori metabolici che normalmente ci sono molto più difficili in fasi di bulking in cui pesando di più il sistema di endurance muscolare è un po' più affaticato. Quindi non è tanto, ok, lavorate sulle altre ripetizioni perché bruciate di più, no? Lavorate sulle altre ripetizioni, comunque lavori metabolici, lavori in drop set, cluster set, eccetera, perché siete molto più bravi e sarete molto più bravi su questi lavori. Avete un margine di miglioramento che, logicamente, vi permette poi di continuare i processi di immagrimento. Quindi, primo consiglio, vedete esattamente cosa state facendo in allenamento. Seconda battuta, deficit energetico. Probabilmente non avete deficit energetico anche se dai calcoli alla mano e tutto il resto credete di averlo. Quindi i casi sono due. O diminuite le calorie, in base a quante calorie state, oppure quello che preferisco, se avete, logicamente, margine, andate ad aumentare il cardio o aumentare comunque il NEAT. Quindi il numero, sostanzialmente, di passi giornalieri di attività involontaria, tra virgolette, che andate a fare. Quindi inserite una passeggiata in più, mettetevi disponibili per andare a fare le pulizie di casa, quindi la mattina prendete e pulite tutta quanta casa, prendete queste buone abitudini, sicuramente è qualcosa che vi dà una mano. Quindi, generalmente, l'allenamento e il deficit energetico sono i primi driver che vi permettono poi di dimagrire ulteriormente. E in tutto questo, logicamente, valutate sempre il recupero muscolare, nel senso che se vi sentite molto imballati, la performance non va bene in allenamento, non riuscite a recuperare, allora sicuramente aumentare il cardio, aumentare l'allenamento non è la scelta ideale. Magari in questo caso, e qua andiamo all'altro consiglio, prendetevi dei giorni di riposo, quindi non necessariamente di diminuzione calorica o di up calorico, le calorie mantenetele sempre uguali come quelle che seguite nei giorni off, però prendete un po' di recupero dall'allenamento, perché probabilmente siete sovrastressati, soprattutto se vi vedete un po' male allo specchio, un po' ingolfati, barra ingolfate, acquosi, eccetera. In questo caso probabilmente è lo stress che è elevato, la cortisolemia è tendenzialmente elevata, il recupero non va bene, quindi dovete prendervi un attimo, 3-4 giorni di riposo assoluto, e poi da là ripartite, vedete che il peso inizierà a diminuire di nuovo. Altra chicca da poter inserire riguarda il timing, sia dell'allenamento che dell'allenamento del cardio, ossia provate a mettere in punti diversi la giornata il cardio dall'allenamento con i pesi, quindi quello che io preferisco fare è, la mattina faccio l'allenamento con i pesi, e poi il pomeriggio o verso serata faccio il mio cardio. In questo modo ho due punti, di attività fisica diciamo abbastanza importante nel corso della giornata e l'epoque sta tendenzialmente più elevato, quindi piuttosto che fare allenamento e poi cardio, distinguerli ci permette di avere generalmente un dispendio calorico maggiore, quindi a parità in realtà di attività fisica che faccio, quindi anche di impatto sul recupero muscolare, avrò un dispendio calorico, un'epoque maggiore. E questo vale anche se avete la possibilità di farlo, e vi è comodo da un punto di vista organizzativo, la bigiornaliera, ossia invece di fare petto bicipiti la mattina, faccio petto la mattina bicipiti il pomeriggio, che sia anche per esempio un 30 minuti di allenamento, quindi molto molto blando, però in questo modo avrò due punti differenti di stimolo, di attività fisica, e di nuovo a parità di impatto sul recupero muscolare, tendenzialmente il dispendio energetico andrà ad aumentare, e così come anche il partizionamento dei nutrienti. Ora tutto quello che abbiamo visto è facilmente applicabile, sono le uniche armi che dovete applicare nel momento in cui avete appena iniziato il cut, quindi ancora vi esorto, se avete iniziato il cut probabilmente le calorie sono alte, anzi parlo soltanto per quelle persone che hanno fatto una buona fase di bulk e le calorie sono alte, perché se no se le calorie sono molto molto basse all'inizio cut probabilmente avete sbagliato qualcosa nell'off season e vi conviene fare un reset metabolico, comunque in questo caso le calorie saranno alte, il cardio sarà basso, quindi aumentate il deficit, ve lo potete assolutamente permettere, perché se non perdete peso probabilmente il deficit non è abbastanza. Ora in tutti quei casi invece in cui l'ABF è veramente bassa e siete alla fine della fase di cut, allora ci sono altri tool che potete utilizzare, ma solo in questo caso ovviamente. Il primo è il refeed, refeed ossia un aumento di 1, 2, 3 giorni, un aumento calorico che in realtà vi permette soprattutto non tanto di far ripartire il metabolismo, perché ci vogliono settimane per farlo ripartire, in realtà il discorso del refeed è che vi riempie di nuovo il glucogeno muscolare e migliora la performance, vi dà un aspetto visivo anche migliore, perché c'è più acqua all'interno del muscolo, meno acqua a livello extracellulare e quindi automaticamente i processi poi di dimagrimento riprenderanno, perché siete più attivi in palestra, fate meglio il vostro cardio, siete più pieni, la cellula muscolare è più anabolica, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo si riflette poi in un ringranare automaticamente il metabolismo. Quindi diciamo che l'aumenta il dispendio in maniera più che altro indiretta, migliorando la vostra performance. E in seconda battuta, uno shift che potete fare, soprattutto se avete utilizzato un approccio ipoglucidico e iperproteico, come molto spesso si fa, uno shift tra proteine e carboidrati. Ossia, per esempio, sto a 250 grammi di proteine e per 150 grammi di carboidrati, scendo le proteine e abbasso a 200, addirittura a 150, quindi tolgo 100 grammi di proteine e aumento 100 grammi di carboidrati. Quindi i carboidrati a 350 diventano 400, piuttosto 450. Questo è un piccolo shift. A livello energetico è esattamente la stessa cosa, perché più o meno hanno sempre 4 grammi, 4 calorie per grammo, sia proteine che carboidrati, però a livello di impatto metabolico sarà completamente differente. Innanzitutto vi iniziate a riempire, avete meno stress da un punto di vista gastrointestinale per i livelli di proteici che si abbassano e la performance si inizia a migliorare e dopo un po' ovviamente anche il metabolismo inizia a accelerarsi. Quindi da qua ci avete un bel vantaggio e continuerete a scendere di peso. Anzi, molto spesso io quando faccio fare questo shift verso la fine della preparazione, non sto mai troppo alto di proteine, però scendendo a un certo punto di BF tengo le proteine molto basse, vicino anche al grammo, grammo e mezzo per chilo di peso corporeo, quindi veramente molto molto basse per come sono abituati i bodybuilder, e aumentano i carboidrati. Da qua si inizia a scendere il peso e quindi da là si inizia ad entrare in una fase in cui i carboidrati devono essere aumentati gradualmente per poter riempire bene l'atleta, perché il metabolismo inizia a ingranare a mille, da un punto di vista gastrointestinale si sta benissimo, la midsection è completamente piatta, completamente pulita, la digestione è migliorata, eccetera, eccetera. E l'unico consiglio che vi posso dare in questo caso è quello di sfruttare comunque il vantaggio che può avere un'assunzione di amminoacidi essenziali, io faccio utilizzare normalmente l'aminoex o ancora meglio il protesamine, il vantaggio che possono dare da un punto di vista di stimolazione della sintesi proteica e il rallentamento dei processi di catabolismo. Quindi proteine basse, ma vado ad utilizzare un serving di amminoacidi essenziali, il protesamine ha un ottimo rapporto stichiometrico, quindi ho già dedicato un video e vi consiglio di utilizzare quello, appena sveglia al mattino e prima di andare a dormire, in questo caso. Quindi proteine basse però vado a sfruttare comunque un pool di aminos, in questo caso il metabolismo va a mille. Quindi ragazzi, questi sono dei consigli per quanto riguarda il non riuscire a dimagrire. Di nuovo, qualsiasi domanda sarò ben lieto di rispondere, quindi iscrivetevi qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video.